Alla notizia che le coperture erano in amianto ci siamo immediatamente attivati come ufficio di polizia, impartendo una prescrizione immediata e cogente per la rimozione di tutto il pericolo. Proprio perché non passasse ulteriore tempo così inutilmente e si rischiasse di andare a contaminare delle zone ancora più estese, più vaste e abbiamo stabilito un termine ridottissimo alla proprietà perché provveda alla riduzione, all'eliminazione del rischio amianto. Il 14 agosto scorso la polizia locale della città di Avezzano al comando di Luca Montanari ha emesso un provvedimento dai contorni anche penali per velocizzare e far completare le operazioni di rimozione dell'amianto presente all'interno del centro di riciclo Casinelli, distrutto dalle fiamme nell'incendio del 15 luglio scorso. La prescrizione l'abbiamo emessa il 14 agosto, il giorno stesso che abbiamo avuto notizia della presenza di amianto. Noi siamo tempestivi, abbiamo lavorato in giornate, in tempo reale, era il 14 agosto, l'unico ufficio aperto e abbiamo provveduto a questa prescrizione con un ordine di natura penale, se non viene rispettato ci saranno conseguenze di carattere penale. Un incendio di natura dolosa sulla cui modalità pendono ancora le indagini dei carabinieri. Intanto qualcosa si è mosso ai primi di agosto, la certezza della presenza di Eternit attraverso i campionamenti dell'Artabruzzo, materiale che ancora resta lì in attesa di un provvedimento ufficiale da parte di chi di competenza. In ballo c'è la questione che non ha possibilità di rimandi al domani, la salute pubblica. E abbiamo stabilito un termine brevissimo che scadrà a fine mese. Quindi toccherà al proprietario comunque rimuovere questi rifiuti pericolosi? Toccherà alla proprietà provvedere ovviamente, sono rifiuti di proprietà privata e la proprietà privata dovrà farsene carico.